siamo a roma termini abbiamo raggiunto roma è ora di visitare roma va bene ci vediamo dopo stiamo vicino al colosseo il colosseo sta la però noi stiamo andando la siamo scemi siamo vicinissime al colosseo guarda ce n'è proprio dietro di finirlo solo di costruire adesso ci consiglia victor di andare avanti raggiunto anche il colosseo siamo arrivati al colosseo stai felici vittia piazza venezia una monster non può mancare signori tagliamo oggi una cosa fighissima piazza venezia andiamo prima la fontana di trevi piazza venezia saliamo e ritorno perché c'è vittia siamo vicinissime la fontana di trevi infatti si trova laggiù siamo pronti a rubare i soldi quando vediamo mezzo milione adesso mi siedo l'anni fischio anzi non posso proprio passare stavolta e mi hanno direttamente chiuso la fontana di trevi raggiunto siamo in viaggio per il lungo tevere lungo tevere raggiunto ora dobbiamo andare al vaticano che si trova a 1 o 2 km laggiù eccoci qua mangio stiamo finendo di mangiare il panino sta venendo l'ambulanza a prenderti vita sei felice mo andremo al vaticano bravo amici eccolo la il vaticano è ora di se mannaggia pensaremo al vaticano ne valsa la pena dai 15 euro per vedere sto panorama minchia la giusta piazza venezia tra poco andremo la al vaticano ci stiamo squagliando dal caldo lui già come l'anno scorso saliremo fino là sopra basta fare foto basta noi dobbiamo salire sopra quella chiesa che è un'impresa ok stiamo ufficialmente per entrare con un piede sto in italia con l'altro sto nel vaticano ok adesso sto in vaticano questo è il vaticano siamo entrati nel vaticano signori un'altra tappa raggiunta la dobbiamo raggiungere là sopra però è un casino serve l'elicotter lui non sa che sensazione si avrà a salire là sopra perché non ci ha mai salito ma vi dico che io mi sono spaccato i piedi la scorsa volta tremavano infatti oltre alex andiamo a fare solo le scale a 8 euro per risparmiare da 10 minchia let's go 8 euro a piedi let's go le scale che non finiranno mai vitio sei felicemente stanco ammettilo no tutto bene che sanghezza non morire intanto si inizia a vedere Roma siamo arrivati questa è solo la prima tappa del vaticano cupola vita dura per 10 minuti questa tu rigi ma faccia da piani non ma faccia da forte attaccare non 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 si ok siamo arrivati tutte le scale non le voglio più vedere spiega un po ma salire quelle scale com'è stato difficile no no assolutamente per carità ci stiamo perdendo dal centro storico di roma la pausa birra hai fai qualcosa bravo no mi metto le palle si chiude stiamo entrando a termini perché se è un quarto abbiamo il treno stiamo andando tipo due orette prima non lo so sono frettolosi noi ci vediamo là siamo arrivati che tristezza volevo rimanere a roma ciao vignia feconosa ciao ciao grazie a tutti